Concluso a Roma il consiglio direttivo di Alis, bilancio del presidente Guido Grimaldi del grande successo di LetExpo, Francesca Fiorini, nuovo segretario generale dell'associazione, il generale Paolo Pelosi, nominato presidente della nuova commissione sulla cybersicurezza. Il mercato auto italiano accelera a marzo oltre 168.000 immatricolazioni, in aumento del 40,8% anno, ancora bassa la quota delle elettriche. Il record di stranieri in volo verso l'Italia per le festività pasquali, 141.000 agli arrivi previsti, in crescita del 29% anno, grande ritorno dei turisti americani, meta preferita alle città d'arte. La Finlandia entra nella Nato, il segretario generale Stoltenberg, momento storico, il 31esimo alleato, Moscaverte, rafforzeremo le difese a nord-ovest. Stasera da Alice Channel Talk 2 a 2x2, Maria Antonietta Spadorcia con il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, e Nunzia De Girolamo con la ministra del Turismo Sant'Anché.